Lunedì di ripresa di allenamenti qui a Montesacchio dopo la bella parentesi contro il Savoia dove al di là dei risultati si sono viste delle buone cose, si è ripreso gli allenamenti con noi il presidente Nazaro, è arrivato Cerbone e abbiamo parlato con Cerbone, ora parliamo con il presidente. Presidente, in Campania sembra strano ma si parla solo di due società, Cervinara e Montesacchio perché stanno operando in maniera eccezionale sul mercato e soprattutto sembra che siano squadre di eccellenza non di promozione, darete vita a un grande campionato? Sicuramente il Montesacchio e il Cervinara sono le due società che attualmente stanno operando meglio, anche se c'è da dire e da riconoscere che anche altre società stanno operando bene. Prendiamo l'esempio tipo Olisi, Grotta, Grotta sta facendo una squadra veramente composta da giocatori importanti e con un tecnico eccezionale, per questo dico sicuramente il Montesacchio sono le due società che stanno facendo più rumore sul mercato, però aspettiamo sempre al giudice che il campo sportivo si testimoni il fatto che sono le due squadre più attrezzate per vincere questi campionati. Ci giungono notizie che sia Solofra sia Mugnano del Cardinale sull'onda del Cervinara, Montesacchio, Paolisi e Grotta stanno allestando delle buone compagni senza tener conto che il Serino è già una squadra fatta, il Forino si deve ancora vedere, Virtus Avellino. Sembra che la promozione quest'anno, quest'anno non ci stanchiamo mai di dirlo, dovrebbe essere il campionato principe di tutti i tanti campani. Sì ma sicuramente io penso che tutti i campionati quest'anno io vedo che hanno qualcosa in più rispetto agli altri anni, la promozione sicuramente sta uscendo fuori soprattutto nel nostro girone, un girone molto competitivo composto da società che hanno voglia di fare calcio e sicuramente io penso che sarà un campionato bello da vedere e da vivere per tutto l'anno. Un'ultima domanda che riguarda come è consuetudine i tifosi, tifosi che si stanno già organizzando in tutte le piazze, tutte e quattro le piazze della Valle Caudina, sicuramente sarà, possiamo dire senza ombra di dubbio, uno spettacolo nello spettacolo? Sicuramente, voi al Cervinara e Montesacchio non manca perché sono le due squadre che da anni sono sempre le squadre più seguite, io penso che i tifosi in queste categorie sono un'arma in più per chi ce l'ha, io penso che anche tra le tifoserie ci sarà un grande spettacolo sugli spalti e rispetto al reciproco come ci è sempre stato, diciamo. Mauro Cerbone che serve a completare un reparto già di per sé forte però deficitario perché si è fatto male Antonio Cioffi, diciamo che con il recupero di Antonio Cioffi, con Cerbone, con Mussone e con Ciampino, il Montesacchio è forse una delle squadre più forti nel reparto arredato di tutta la promozione. Questo mi fa piacere, voglio approfittare di questa cosa per fare un in bocca al lupo a Cioffi, per un presto ritorno a giocare e niente, sono a Montesacchio, sono contentissimo di questa scelta, sono motivatissimo per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati della società. Senti Mauro, parlando un pochino della tua esperienza, noi te la andiamo a sottolineare, già sottolineata molto abbondantemente, il campionato di promozione di quest'anno o almeno a detta di tutti nel Girone C dovrebbe essere un campionato forse uno dei più forti degli ultimi dieci anni. Ho visto un po' gli acquisti che hanno fatto sia il Cervinara e qualche altra squadra, sarà un campionato dove si deve lottare tantissimo e noi siamo qui comunque per dare il massimo e cercare di vincere questo campionato. Inutile nasconderci, puntiamo alla vittoria finale. Senti Mauro, un'ultima domanda, la Valle Caudina in teoria dà quattro squadre, perché non si sa bene ancora il Girone, però in teoria dovrebbe essere quattro. Quattro squadre che a mio parere decidono le sorte del campionato di promozione, perché con tanti derby tutte le squadre passeranno per la Valle Caudina. Alla fine sulla carta Cervinara e Montesacchio sono più avvantaggiate perché hanno costruito delle super squadre, però San Martino e Paolisi con i derby potranno dire loro. Sì, perché il derby è sempre una partita a sé, ci sono motivazioni diverse, quindi sarà una dura lotta questo campionato e questi derby, uscirà fuori chi ha più voglia, chi ha più motivazione di portare a casa il risultato.